Salve guys, ben ritrovati! Quest'oggi andremo a vedere qualcosa che mi è stato chiesto, mi è stato chiesto più volte, a dire la verità. Continuiamo sulla serie degli ingranaggi, che è un argomento che a quanto pare va sempre di moda, perché è molto interessante. Questa volta realizzeremo degli ingranaggi elicoidali. Il singolo ingranaggio elicoidale non è particolarmente complesso da realizzare, lo vedremo, quello che è difficile forse è creare la catena cinetica, una catena cinematica di ingranaggi elicoidali, che quindi ovviamente devono ingranare e devono avere l'angolo di pressione costante. Questa è una condizione necessaria affinché ovviamente gli ingranaggi non si incastrino e c'è la possibilità con più di andare a vedere questa condizione se viene rispettata. Ok? È molto molto... in realtà una volta poi visto il video naturalmente è tutto molto semplice. Ovviamente per ricorrere a questa costruzione partiremo da quello che era il nostro ingranaggio parametrico, che è stata una delle prime lezioni di questo canale, quindi apro l'ingranaggio parametrico, chiudiamo qui. Dopodiché voglio realizzare questa elica. Bene, possiamo farlo in realtà, guardate, in modo molto semplice. Qui, vi ricordate, questi sono i parametri che abbiamo definito. Inserisco i parametri preferiti anche questa qui, la B, che era la spalla, se vi ricordate, di questo ingranaggio, che sarà anche la nostra spalla dell'ingranaggio elicoidale, ma soprattutto devo introdurre un nuovo parametro che chiameremo beta, quindi andiamo ad aggiungere un parametro beta, che è un nuovo angolo, quindi qui come unità di misura magari metteremo gradi, e sarà l'angolo di twist, potremmo dire, oppure l'angolo di elica, che in genere dai manuali è indicato che deve essere compreso tra 15 e 30 gradi, generalmente. Partiamo da un 15 gradi, ok? Quindi questo beta diventerà un mio nuovo parametro, lo metto tra i parametri preferiti anche questo, che definirà questo twist, insomma, questo attorcigliamento che ci creerà l'elica. Perfetto. Ovviamente torno indietro qui, elimino questa estrusione, non mi serve più, la cancello, vado a visualizzare, vedete, questo qui sarà il profilo ovviamente del mio dente, ma mi serve un nuovo sketch, questa volta perpendicolare al precedente, in cui semplicemente vado a rappresentare un segmento lungo proprio pari a B, cioè la mia spalla, ok? Vedete, si visualizza anche l'altro sketch, questo segmento non è altro che un'altezza perpendicolare al mio profilo, ok? Perfetto. A questo punto per creare la mia ruota dentata elicoidale, non devo fare altro che utilizzare il comando SWEEP, scelgo questo profilo come profilo di base, scelgo come percorso questo pesettino. Ovviamente se lasciassi twist angle a zero, non faccio altro che ottenere esattamente quello che già avevo, ovvero la mia estrusione, il mio ingranaggio cilindrico semplice, ma adesso qui in twist angle vado ad inserire il mio angolo di elica, ok? Vedete? In questo modo, mi raccomando, prestate attenzione che qui orientation deve restare perpendicola, e distance 1, ok? Perfetto. La mia ruota dentata elicoidale è realizzata. Guardate, adesso qui realizzo anche qualcosa che mi fa comodo per farvi vedere poi quello che è ovviamente la superficie di tangenza, quindi mi vado a creare, guardate, ad un'ottima disattivare questo body, mi vado a creare su questo piano qui di base una circonferenza che ha diametro proprio la primitiva. Se vi ricordate, la primitiva era definita proprio dal parametro D. Eccolo qui, vedete? Perfetto. Diamo ok. Anzi, vi dirò, questa primitiva la mettiamo tra i parametri favoriti. Ok, con questa circonferenza primitiva disegnata vado a creare una superficie, ok, non... perdonate, ho sbagliato comando, ma questo qui, l'estrusione. La facciamo alta proprio pari a B, cioè la spalla del nostro ingranaggio. Vedete, in questo modo ho rappresentato sia l'ingranaggio vero e proprio che la sua superficie primitiva, che è la superficie di tangenza, ok? Perfetto, magari gli diamo un colore differente giusto per differenziarlo, per renderlo più visibile, ok? Ed eccola qua. Perfetto, il mio ingranaggio elicoidale è fatto. Lo salvo con un altro nome, mi raccomando, altrimenti sovrascriviamo quello che già avevamo, e vado a crearmi un nuovo disegno. Questa volta lo dobbiamo salvare, vi ricordate, altrimenti non possiamo caricare componenti esterni. chiamiamola catena ingranaggi elicoidali, ok? Salviamo. Perfetto. A questo punto andiamo ad inserire in questo nuovo file quell'ingranaggio parametrico che avevamo fatto prima, ok? Allora, ricordate che se lasciamo il riferimento parametrico esterno, quindi vale a dire se in questo file noi abbiamo l'ingranaggio ovviamente che punta al nostro oggetto esterno, non è possibile intervenire sui parametri perché ovviamente sono bloccati. Per poter modificare i parametri dovremmo entrare con un edit in place, ma naturalmente agendo in questo modo andiamo a modificare anche quelli che sono i parametri dell'oggetto che abbiamo qui, quindi che abbiamo nella nostra libreria. Quindi in realtà per poter modificare i parametri non basta fare altro che cliccare col destro qui e rompere il collegamento, ok? A questo punto compariranno, vedete, i parametri nel nostro elenco dei parametri. Bene, voglio creare una nuova ruota. Adesso attenzione, se io duplicassi questa che ho in questo disegno, non otterrei la duplicazione di tutti i parametri che mi servono per definire la nuova ruota. Faccio un esempio e ve lo faccio vedere. Se io creassi una copia, vedete, in questo modo, perdonatemi, devo prima attivare i copi, se io attivassi, vedete, così, se facessi una copia così, in realtà questa qui non è altro che un'istanza dello stesso oggetto di partenza. Quindi che cosa significa? Che i parametri sono sempre gli stessi. E muovere un parametro, per esempio, che ne so, muoviamo l'angolo questo qui, vedete, mi modifica necessariamente anche l'altro, ok? Perché in questo modo io ho due istanze di uno stesso oggetto. Quindi non è certamente questo il modo di farlo. Altresì, se io facessi una copia e incollassi, in questo modo, con past new, ok, vedete, un altro oggetto, per quanto questi due oggetti non sono riferentesi allo stesso oggetto, i parametri non vengono duplicati. Vedete? In ogni caso ho gli stessi parametri che mi definiscono entrambi gli oggetti. Quindi l'unico modo per far sì che abbiamo due oggetti con set di parametri indipendente è inserire nuovamente l'oggetto all'interno di questo disegno. Ma questa cosa probabilmente già la sapete. Quindi ho inserito un nuovo oggetto, lo lascio dov'è, rompo anche qui il link e vediamo qui, vedete, che si sono duplicati i parametri. Nello specifico vedete che c'è un alfa e un alfa 1, un b e un b1, un beta e un beta 1, eccetera, eccetera. Naturalmente possiamo decidere anche di collegare questi parametri. Ad esempio, se voglio che la spalla dell'altra ruota dentata sia esattamente pare a quella della prima ruota dentata, posso dire che questo b1 è uguale a b, ad esempio. Ok? Così come è lo stesso modo, alfa, che era l'angolo di pressione, necessariamente lo colleghiamo a quello della prima ruota dentata e così via. Anche per dire l'Mc, sappiamo benissimo che il modulo deve essere necessariamente lo stesso, altrimenti non viene garantito ovviamente l'ingranaggio. Ok? Ovviamente il numero di denti possiamo volerlo cambiare, perché magari, ecco, appunto, vogliamo creare una trasmissione che abbia un certo rapporto. Ok? Ad esempio, facciamo conto che la seconda ruota, quella chiamata con i parametri Z1, anziché 36 denti, ne abbia 24. Ok? Verrà ricalcolato l'ingranaggio, vedete, eccolo qui. Si vede che è più piccolo. Naturalmente, questo nuovo ingranaggio avrà una nuova superficie primitiva. Per vederla, basta fare, vedete, vediamo, abbiamo due superfici primitive. Proviamo a spostarle, a creare quello che sono poi i cinematismi e vediamo che cosa c'è da correggere. Va bene? E andiamo a vedere un po' più nel dettaglio. Allora, innanzitutto, dobbiamo spostare questo ingranaggio affinché le due superfici delle primitive siano tangenti. Beh, il calcolo da fare della traslazione è abbastanza semplice. Basta prendere i diametri delle due primitive, sommarli e dividere per due. In questo modo abbiamo fatto una traslazione pari ai raggi delle due circonferenze primitive. Ok? Quindi spostiamo esattamente della quantità che ci serve per poter fare ingranare i nostri due ingranaggi. Perfetto. Vedete che già il punto di pressione è garantito. Già è tutto ok. Ma si intuisce subito che c'è qualcosa che non va. Basta guardare la parte di sotto. E di fatti se andassi adesso io qui accetto la posizione perché mi può anche andare bene se andassi a guardare per esempio con una sezione con un piano di sezione mi rendo conto che mentre la parte di sopra effettivamente è corretta a mano a mano che entro dentro vedete succede questa cosa. In particolare che cosa sta succedendo? Sta succedendo che la ruota di sopra vedete è come se ruotasse nel momento in cui andiamo a scandire queste sezioni. E ovviamente ruotano entrambe nello stesso verso ma sappiamo bene che due ruote che si toccano in questo caso ruotano in versi opposti. Quindi già questo ci fa intuire che bisogna intervenire sul verso dell'elica della seconda ruota. Perfetto. ok iniziamo ad intervenire sul verso di questa elica e quindi lo facciamo ho sbagliato il tasto lo facciamo intervenendo su quello che è l'angolo beta vi ricordate? Mettiamo il caso in cui effettivamente il beta della seconda ruota quindi l'angolo di elica della seconda ruota sia opposto esattamente a quello della prima ruota quindi io scrivo meno beta. Vediamo che cosa è successo. Bene sopra la situazione è decisamente corretta ok come prima ma andiamo a vedere anche in questo caso la sezione che cosa fa. Vedete anche se effettivamente questa pseudo rotazione che stiamo andando a vedere è la stessa è corretta perché una ruota gira in un verso e l'altra nell'altro verso vedete che a un certo punto c'è una compenetrazione bene qui bisogna stare attenti perché da che cosa dipende questa compenetrazione? Dipende dal fatto che la ruota di sopra fateci caso è come se ruotasse più velocemente rispetto a quella perdonatemi la ruota di sinistra questa qui azzurra ruotasse più velocemente rispetto a quella di destra e in effetti ci si può arrivare anche con un po' di intuito la ruota grande quella azzurra ha più denti rispetto a quella rosa ok? Che cosa vuol dire? Che nel compiere la rotazione di tutto il giro di tutte e 360 gradi naturalmente si muoveranno più denti rispetto a quella la rosa che cosa con questo che cosa vogliamo dire? Vogliamo dire che affinché i denti della ruota rosa seguano quelle della ruota azzurra c'è bisogno che di una certa accelerazione in questa torsione guardiamola in questo modo ok? come si ottiene questo effetto? beh è ovvio che questa accelerazione immaginatela è collegata al rapporto di trasmissione quindi se noi sappiamo che le due ruote dovranno ruotare con un rapporto che pare proprio al rapporto dei denti del numero dei denti perché il presupposto della ovviamente del modulo deve essere garantito è facile intuire che anche le inclinazioni di queste eliche debbano necessariamente seguire questo rapporto ed ecco che arriviamo quindi alla relazione che ci occorre quindi ritorniamo qui nei parametri e sappiamo che il rapporto di trasmissione è pari a z su z1 ok? quindi il numero di denti della prima ruota sul numero di denti della seconda ruota e allora moltiplichiamo questo meno beta che abbiamo fatto qui per z su z1 e andiamo a verificare il nostro ingranaggio questa volta vedete la posizione iniziale non è quella corretta la andiamo a correggere io sono ritornato qui ho fatto doppio click a questo punto utilizzo questo strumento per andare a ruotare la mia elica e la mia ruota naturalmente la rotazione sarà pari ad un angolo ad esempio di 360 gradi diviso z1 diviso 2 ok vedete perché deve andare a metà tra due denti ok perfetto a questo punto andiamo a vedere se è tutto a posto all'interno con la sezione vedete che adesso le due sezioni camminano parallelamente quindi ricapitolando per poter creare l'ingranaggio giusto tra due ruote elicoidali non basta solo andare a verificare che il modulo sia uguale che era una condizione sufficiente affinché due ingranaggi cilindrici ingranassero in questo caso c'è bisogno anche che gli angoli di elica quindi gli angoli con cui andiamo a rappresentare le spalle di questi denti rispettino un certo una certa relazione che è pari esattamente al rapporto di trasmissione ok abbiamo detto la ruota grande per compiere un giro muoverà più denti rispetto alla ruota piccola quindi per poter far sì che la ruota piccola segua la rotazione della ruota grande c'è bisogno di tra virgolette accelerare quindi di rendere più veloce questa rotazione ericoidale che facciamo andando a fare la scansione delle sezioni ok senza scendere troppo in tecnicismi in dettagli geometrici complessi però immaginatele in questo modo che è molto semplice da intuire ecco che quindi alla fine per far sì che queste due eliche ingrani non basta fare altro che moltiplicare innanzitutto bisogna invertire il verso l'abbiamo detto perché questo deve tener conto del fatto che l'altra ruota sta ruotando in verso antagonista rispetto alla ruota principale dopodiché dobbiamo moltiplicare questo quest'angolo insomma di elica per il rapporto di trasmissione a tutti gli effetti ok andiamo a creare il cinematismo giusto per bezzo possiamo creare un ice build joint per esempio di quest'elica con l'origine quindi attaccandola a terra di tipo revolute usiamo come centro di rotazione quello della superficie della primitiva facciamo la stessa cosa di quest'altro ingranaggio quindi rispetto all'origine perfetto con quest'altro centro di rotazione e andiamo a creare il link quindi motion link tra questi due revolute che abbiamo appena creato dove in angle 1 mettiamo il numero di denti z1 per leg scriviamo mentre nel 2 z per leg e il reverse ovviamente in pratica è come se avessi creato il rapporto di trasmissione se volete se preferite potete anche mettere qui 360 e qui mettere z su z1 insomma esattamente la stessa cosa il per deg serve per convertire questo numero che è un numero puro un numero assoluto che non ha unità di misura in un angolo altrimenti fusion qui non lo accetta perfetto ed ecco fatto abbiamo creato vedete l'ingranaggio perfetto come vi dicevo le superfici mi aiutavano semplicemente a fare questa a farvi vedere questa condizione qui la condizione di tangenza delle primitive deve essere necessariamente in ogni caso sempre garantita altrimenti non c'è l'ingranaggio se vi ricordate all'inizio del video ho detto c'è un modo per verificare in modo preciso per verificare se effettivamente gli ingranaggi compenetrano oppure sono perfettamente tangenti e non ci sono compenetrazioni bene questo modo si trova all'interno di inspect perché all'interno di inspect voi potete potete verificare le compenetrazioni con interference ok qui selezionate i due oggetti dei quali volete andare a valutare le interferenze eventuali quindi che valutirete le compenetrazioni cliccate qui su compute vedete qui mi ha trovato una compenetrazione però stiamo parlando di una tangenza veramente minima sono meno 0,6 millimetri cubi quindi una quantità molto piccola nel caso in cui invece per dire se avessimo avuto una ad esempio qui una situazione di questo tipo avremmo trovato per farvi vedere un'interferenza decisamente superiore ovviamente vedete qui si parla di qualcosa per sono 284 mila millimetri cubi ovviamente è un'interferenza totale in realtà anche questa piccola interferenza che abbiamo riscontrato qui ci aiuta nel momento in cui vogliamo andare a decidere quelle che sono le quelle che sono le tolleranze che vogliamo mettere in gioco ovviamente in questo caso si parla di tolleranze veramente piccole vedete è veramente piccola questa questa zona di pressione di compenetrazione è veramente sottile però possiamo andare ad agire sulle tolleranze per poter risolvere questa piccola interferenza intanto avete visto in questo video molto brevemente abbiamo introdotto quello che è l'ingranaggio elicoidale abbiamo però parlato in modo un po' più dettagliato e diffuso di quello che è il cinematismo tra ingranaggi elicoidale perché se negli ingranaggi bastava semplicemente stare attenti che il modulo fosse costante fosse conservato tra i vari ingranaggi nel caso di ingranaggi elicoidali non basta bisogna innanzitutto verificare che i versi dell'elica che si dicono verso destro e verso sinistro rispecchino effettivamente la catena di ingranaggi che stiamo facendo sapete che due ingranaggi che toccano sono concorrenti quindi vuol dire che un ingranaggio che ruota in un verso fa ruotare l'altro ingranaggio nel verso opposto allo stesso modo le eliche se sono destre nel caso di un ingranaggio l'ingranaggio che è tangente a quello lì deve essere un'elica sinistra ma abbiamo visto che nel caso in cui c'è un certo rapporto di trasmissione questo ancora non basta per garantire la non compenetrazione quindi non incastro fra gli ingranaggi c'è bisogno anche di andare a verificare che questo rapporto di trasmissione sia garantito anche nell'angolo di elica quindi abbiamo visto tutte queste cose io spero che questo video vi sia stato utile e soprattutto che sia sufficientemente chiaro io come sempre vi esorto a interagire con me nell'eventualità in cui avete dei dubbi delle domande non dimenticate che esiste anche il canale telegram sul quale potete fare tutte le domande che volete oppure potete commentare sotto questo video come al solito grazie per avermi seguito grazie per avermi seguito